Eventi in città, all'Euro è in corso la festa della cioccolato, sino a domani Viale Europa sarà chiuso al traffico tra Viale Tupini e Viale Buster. Sono deviate su percorsi alternativi le linee 31, 771, 780 e 788. Domani invece dalle 7 alle 17 sono in programma potature e chiusure in via Cilicia. Saranno deviate le linee 30 e 77. Ancora domani per lasciare spazio alla manifestazione Vola Ciampino 2024, dalle 7 verrà chiuso al transito Viale Kennedy per i veicoli provenienti da via dei 7 metri e diretti a Ciampino. Saranno deviate anche il bus della linea 515.